regia e pubblicità per campare per scelta nell'attesa ma devo dire a me è sempre piaciuta la pubblicità in realtà ho fatto anche cinema lo sto facendo e non ho mai rinnegato la pubblicità nel senso che proprio mi piace tornarci quindi in realtà per scelta sicuramente ti aiuta a campare è innegabile però mi piace anche il racconto breve mi piace in realtà anche capire tutte le le dinamiche industriali di lancio di marketing di cose mi appassionano mi annoiano anche quando faccio degli spot che diciamo non è che sono così stimolanti artisticamente mi riesco a divertire qual è il lavoro della tua ril che più ti rappresenta di pubblicità è bella domanda perché a me piace mi trovo bene in due registri uno quello un pochino più commedia e uno in quello più emotivo emozionale in quel senso forse uno che è stato particolarmente importante per me è stato quello primo di calzedonia speriamo che sia femmina che che rappresenta molto uno stile pubblicitario un po cinematografico di racconta che mi piace molto e poi qualcosa di ironico anche quest'ultimo fatto con luca argentiero di caffitali con la unzi con i testimoni al magari giocare un po alla commedia invece quello della ril di qualcun altro che invidi abbe tantissimo uno che mi è piaciuto molto ultimamente che ho visto in onda e che invidio molto perché è stato fatto molto bene in stile appunto commedia però elegante però con caratteri molto belli molto ben recitato e quello di che banca invidio molto perché la nostra comunicazione vince mediamente poco ai premi internazionali cosa ci manca ma secondo me in realtà non ci mancherebbe niente se non che l'indole un po italiana è sempre quella un po del compromesso spesso quindi per comunicare bisogna avere decisione rischiare qualche volta per vincere i premi e spesso anche per vincere a livello di mercato perché ovviamente quando fai qualcosa di forte di innovativo di inaspettato test mica test direttori marketing che direttori marketing spesso vinci ci sono tante volte che perdi quindi ovviamente nel nostro atteggiamento atavico di italiani che non sai mai qual è il ducato che cosa deve essere amico di quello nei comuni eccetera così si è sempre stata come questa eredità di stare sempre sul chi va là e non rischiare mai che che non sbagli e questo è un po penalizza dalla pellicola al digitale si stava meglio prima si stava meglio quindi quando si stava peggio oppure è una figata ma devo dire io grossi contraccolpi non ne ho subiti c'era questo fascino appunto e e e forse anche questa difficoltà di inizio che aveva il suo il suo perché nel senso noi prima di iniziare girare le prime cose in pellicole addirittura le rubavamo forse quando bisogna vedere dirlo di notte nelle case di produzione che andavamo nei turni di montaggio di notte a montare videoclip metal eccetera nel frigo delle case di produzione allora c'erano tante pellicole spesso scadute rubavamo quelle scadute per poter fare poi i nostri esperimenti in pellicole videoclip un po visionario era aveva il suo fascino dal punto di vista tecnico e pratico io credo che ci sia stato un miglioramento di alle volte di velocità di possibilità di girare e anche un limite che ovviamente adesso giri fin troppo per esempio la macchina aperta ed è molto facile girare il talento è una questione di passaporto insomma essere italiani in qualche modo penalizza essere italiani in realtà è una roba che avvantaggia un sacco avvanteggerebbe un sacco perché ovviamente noi nasciamo una cultura creativa amante dell'estetica involontariamente nel senso nasci in paesi belli in piazze belle in chiese belle con affreschi belli quindi quello è sicuramente un vantaggio e quindi è solamente la capacità di riuscire a mettere questi questo talento a disposizione della in questo caso la comunicazione del cinema del teatro di quello sempre la parte diciamo così logistica è sempre un po più complicata in italia rispetto a utilizzo pure del talento cosa fai nel tempo libero gioco a tennis c'è una ricetta un qualcosa che si potrebbe fare per la comunicazione italiana nell'interesse di tutti insomma cosa potresti cosa faresti oggi è siccome è una ricetta vera e propria non è facile da trovare perché è proprio un sistema che è fatto da tanti aspetti che può aiutare o non aiutare la comunicazione per il cinema come per la pubblicità così come nel cinema io temo che adesso questo regista che ha fatto gig robot che era sette anni che andava in giro e tutti dice ma che ti metti a fare i robot i supereroi in italia speranza no ci sono quelli americani città invece con tenace andato avanti adesso sono convinto che il sistema non è che che capirà che va premiato il talento la sincerità del regista inizieranno a fare sette anni di fin di supereroi sempre più scalcagnati ogni ogni roba che progetto che arriva con un supereroe allora adesso lo facciamo la gente non si affezionerà al cosa e saremo da capo e lo stesso spesso in comunicazione non è che che fa il test ovviamente le industrie le aziende grosse sono obbligate magari ad avere dei controlli investimenti molto grossi però spesso non sanno analizzare il test non sanno capire cosa prendere e cosa invece rischiare fra virgolette per fare una comunicazione innovativa o più 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 forte prendono proprio pedissequamente le informazioni e le analizzano un po col paraocchi per non rischiare per cose e quello ovviamente penalizza la comunicazione però una ricetta proprio a parte un po più di coraggio non ce l'ho spot web series a storytelling brand content virali ma è tutto chiaro sì nel senso che alla fine della fiera il nostro lavoro è raccontare con delle immagini delle emozioni sostanzialmente e quello poi possono cambiare è nato con la pittura dalle caverne e adesso ci sarà l'evoluzione di nuovi mezzi di comunicazione di nuove applicazioni però quello rimane raccontare le storie quindi da quel punto di vista lì è chiaro cos'è la nostra missione e poi mi piace applicarla a diversi aspetti il potere dei no nella tua carriera? sono stati alcuni sono stati giusti e sono stato molto contento e li rifarei infatti per esempio nel cinema credo di essere stato l'unico regista dell'ultima generazione che non ha fatto il sequel del suo del suo film di successo nonostante mi offrissero veramente molti soldi però lo rifarei nel senso che era un film che comunque non era giusto fare cioè era giusto fare per il produttore per passare in cassa dopo l'investimento che aveva fatto sul primo film però di per sé non era un film che aveva senso fare sono stati importanti sì in pubblicità alcune volte ho detto di no ma diciamo che in pubblicità mi appassiona spesso più tutto il sistema con chi lavoro qualcosa che di per sé è il valore creativo anche perché a me purtroppo non arrivano storie creativamente rivoluzionarie però mi piace con le storie che mi arrivano cercare di metterci del mio cioè quindi mi interessa quasi più con chi con chi e la possibilità di metterci qualcosa che di per sé il fatto e se non avessi fatto il regista avrei fatto il produttore ragazzi mi piace un cuore ancora detto sto cercando di farlo mi piace molto